Buonasera a tutte e tutti al Digital Open Day del Master di Primo Livello SCOP, la sperimentazione clinica in oncologia, aspetti clinici, gestionari ed operativi. Io sono Silvia De Gobbi, UNISMART, Fondazione dell'Università degli Studi in Padova e vorrei ringraziare tutti e tutte per la partecipazione a questo Open Day che si tiene nell'ambito della Digital Open Week. Prima di dare la parola alla direttrice del Master, la professoressa Guarneri Valentina e ai relatori che presenteranno, fornisco delle veloci comunicazioni di carattere logistico per la buona riuscita dell'Open Day. Prego tutti di tenere disattivato il microfono durante la presentazione dei relatori e chiedo inoltre di scrivere vostre eventuali domande o richieste di approfondimento nella chat di Zoom, in modo tale che queste possano essere da me riprese nella fase finale dell'Open Day. Informo inoltre che l'Open Day verrà registrato e poi messo a disposizione sul sito Google dedicato al Master, a beneficio di chi volesse consultarlo. Diamo ora avvio all'Open Day, passo quindi la parola alla professoressa Guarneri Valentina. Grazie. Buongiorno, siamo oggi a presentare brevemente quelli che saranno i contenuti di questa edizione del Master che è arrivato alla sua decima edizione, quindi ormai è un po' una tradizione che portiamo avanti, devo dire, con molta soddisfazione, quindi ogni anno cerchiamo di aggiustare il programma in modo da rimanere aggiornati per offrire quella che sia una formazione più possibile, utile e adatta allo scenario che è fortunatamente in continua evoluzione, che è quello della ricerca nell'ambito dell'oncologia e che vuole offrire un percorso formativo dedicato proprio alla formazione delle data manager e di infermieri di ricerca, che sono, come poi vedremo nelle presentazioni successive, delle figure essenziali che ci aiutano nella conduzione degli studi clinici. studi clinici che rappresentano non soltanto un qualcosa per far crescere le conoscenze, migliorare gli aspetti terapeutici dei pazienti oncologici, ma vedrete se appunto deciderete di avviare questo percorso che in realtà rappresenta una componente fondamentale anche per offrire i nuovi trattamenti ai nostri pazienti, perché ricerca vuol dire tante cose, non vuol dire solo testare il nuovo farmaco, vuol dire introdurre progressivamente i nuovi farmaci nell'ambito dei percorsi terapeutici dei nostri pazienti e spesso proprio un trial clinico può rappresentare una modalità di accesso precoce a dei farmaci che si sono dimostrati estremamente promettenti e che spesso appunto portano dei vantaggi terapeutici imponenti per i nostri pazienti. Faccio solo l'esempio, abbiamo una paziente che stiamo vedendo in questi giorni che è arrivata al quarantesimo ciclo di trattamento nell'ambito di un protocollo sperimentale, quindi 40 cicli vuol dire diversi mesi, addirittura anni in trattamento e quindi questa è la dimostrazione che uno studio clinico tante volte rappresenta proprio un'opportunità terapeutica importante e per condurre in maniera corretta uno studio clinico servono non soltanto ovviamente i medici che somministrano i farmaci ma serve tutta una serie di figure dedicate alla ricerca che sono appunto da una parte i data manager che sono di fatto le figure professionali che servono proprio alla raccolta dei dati, al coordinamento dello studio, al mettere insieme tutte le cose per far sì che si lavori secondo gli standard del protocollo, secondo tutto quello che garantisce la sicurezza nostra come medici e degli operatori sanitari e del paziente stesso e ovviamente l'altra preziosa figura che è quella degli infermieri di ricerca che si occupa proprio di tutte quelle procedure che sono all'atari di un intervento terapeutico e che necessitano quindi tutte le parti di monitoraggio, prelievi, prelievi per la farmacocinetica e tutto quello che richiede proprio una sperimentazione proprio appunto per garantire che il farmaco sia somministrato nella maniera corretta e garantendo la sicurezza dei pazienti. Io ricordo solo brevemente che qui all'Istituto Oncologico Veneto l'Istituto Oncologico Veneto in generale è anche accreditato per gli studi di fase 1 che spesso rappresentano proprio la prima somministrazione di un farmaco nell'individuo quindi ci sono appunto studi di fase 1 che proprio si caratterizzano per l'essere first in human che sicuramente hanno tutta poi una serie di procedure molto più complesse e quindi credo che l'Istituto Oncologico Veneto che insieme all'Università di Padova porta avanti questo tipo di formazione sia un centro di riferimento proprio per veramente vedere all'atto pratico cosa succede durante una sperimentazione clinica e quindi appunto avremo oggi e che vi presento e poi si alterneranno nella discussione la dottoressa Gaia Griguolo che è ricercatore qui in Università di Padova e lavora come oncologo medico all'Istituto Oncologico Veneto che farà un overview generale di quello che è il contenuto del master e la professoressa Pasello che è professora associata responsabile dell'oncologia toracica qui appunto Università di Padova, Istituto Oncologico Veneto per la parte assistenziale che vi farà vedere in dettaglio come è articolato il percorso didattico quindi la parte generale e poi la parte che si declina come approfondimento per la track dedicata al data manager, al clinical trial coordinator sarebbe la dicitura più corretta e la parte appunto invece di approfondimento relativo alla parte infermiera di ricerca e avremo anche come consuetudine la testimonianza diretta quindi l'esperienza di due nostre colleghe che hanno partecipato alle pregresse edizioni del master e quindi ho il piacere di introdurre la dottoressa Giulia Doria che comunque lavora qui in istituto e si occupa diciamo come appunto clinical trial coordinator, data manager, study manager tutti i nomi si occupa prevalentemente sia della parte di studi di fase 1 che di studi dedicati alla patologia toracica ma poi sono sempre poche quindi in realtà segue tantissimi studi per la mia oncologia e la dottoressa Erika Cavalletto che appunto ha invece recentemente fatto il percorso come infermiera di ricerca che fa parte del team degli infermieri di ricerca qui in istituto che sono credo a livello nazionale uno dei gruppi più numerosi però qui facciamo veramente tantissime sperimentazioni e quindi anche loro sono oberate ma devo dire che anzi colgo l'occasione per ringraziare per il lavoro preziosissimo che fanno e che vi racconteranno quali sono stati per loro gli aspetti importanti per migliorare la loro formazione relativi appunto a questo approfondimento che hanno fatto nel master e anche vi diranno qualcosa relativamente a qual è la loro esperienza e il loro lavoro quindi io a questo punto concludo vi invito comunque come vi ha ricordato la dottoressa De Gobbia a mandare le domande e lascio la parola alla dottoressa Gaia Griguolo Grazie, buon pomeriggio a tutti condivido le mie slide con cui possiamo iniziare quindi a me come introduceva la professoressa Guarneri il compito di darvi un pochino un overview di quelli che sono gli obiettivi di questo master alcuni ve li ha già citati la professoressa in particolare vi ha già detto come in realtà nell'ambito della ricerca clinica siamo magari portati a pensare che la ricerca clinica sia condotta essenzialmente dai medici coi loro pazienti in realtà ci sono tantissime figure senza il quale la ricerca clinica non potrebbe essere portata avanti oltre ai medici, gli infermieri di ricerca, farmacisti, gli study coordinator ma anche associazioni dei pazienti, le istituzioni sanitarie e le amministrazioni in particolar modo il master è orientato a formare due figure professionali principali cioè quello dello study coordinator data manager e quella dell'infermiere di ricerca il fine poi che possano lavorare nell'ambito sia di aziende ospedaliere pubbliche o private quindi aziende ospedaliere, aziende universitarie e ospedaliere policliniche universitari, IRCCS ma anche eventualmente in strutture sanitarie private aziende farmaceutiche e CRO e in particolar modo il master è proprio orientato e continuamente aggiornato per cercare di rispondere alla crescente complessità che osserviamo nell'ambito della ricerca clinica in oncologia per cui vi è essenzialmente proprio la necessità di avere del personale adeguatamente preparato e formato riguardo ai processi della ricerca e l'obiettivo è quello di formare queste due figure di quelli che sono tutti gli strumenti sia teorici ma anche e soprattutto pratici vedrete come il master ha una componente pratica importante per poter condurre nella maniera corretta e contemporanea partecipare alla conduzione di una ricerca clinica in ambito oncologico e quindi formare su tutta una serie di fondamenti a partire sia da fondamenti più teorico in ambito di oncologia clinica metodologia della ricerca, principi etici e normativi ma anche tutta una serie di aspetti più operativi e gestionali che sono essenziali per poter condurre in maniera corretta una sperimentazione clinica e l'obiettivo finale è che alla fine di questo master il partecipante nell'ambito di quelle che sono poi le caratteristiche della figura di fatto che viene prescelta quindi una figura di infermiere di ricerca o piuttosto una figura di clinical trial coordinator o data manager che lo si voglia chiamare possa essere in grado di partecipare e collaborare nella stesura di protocolli di ricerca nell'operare all'interno di protocolli di ricerca in ambito clinico secondo quelli che sono i principi fondanti della ricerca clinica cioè i principi della good clinical practice che imparerete a conoscere se parteciperete al master e della normativa in questo ambito ma anche di coordinare per quelli che sono gli ambiti di propria competenza una sperimentazione clinica sempre nel rispetto del protocollo e coordinare quindi tutti gli aspetti operativi di sperimentazioni profit e non profit sempre tutelando la sicurezza e i diritti dei pazienti ma anche fornendo e essendo in grado di fornire una corretta gestione dei dati e una corretta qualità dei dati perché uno degli obiettivi fondamentali della ricerca clinica è proprio quello della generazione di dati perché solo una gestione adeguata dei dati potrà poi portare a uno sviluppo corretto di un trattamento o di una strategia clinica da un punto di vista pratico come organizzato il master si tratta di un master annuale per 60 CFU sostanzialmente suddiviso in una parte teorica e in una parte pratica di stage con poi elaborazione di un elaborato finale la parte teorica è suddiviso in 300 ore di lezione con modalità a distanza con una frequenza obbligatoria del 70% abbiamo 8 moduli la professoressa Pasello nella sua presentazione vi darà più dettagli relativamente ai contenuti di questi moduli ma in un'ottica generale si tratta di un'oncologia alcuni moduli su oncologia clinica generale e oncologia clinica speciale metodologia della ricerca l'etica della ricerca la normativa il data management quindi la gestione dei dati la conduzione in qualità e aspetti operativi della ricerca preferenzialmente le lezioni si terranno nelle giornate di giovedì e venerdì con eventuali lezioni di recupero se fosse necessarie ma uno dei core importanti del master è soprattutto la parte di stage uno stage obbligatorio di 200 ore qui non sono previste percentuali di assenza ovviamente poi potrete concordare la suddivisione e la calendarizzazione di queste 200 ore in queste 200 ore ci preme che comunque sia possibile vedere in qualche modo entrambi i percorsi ovviamente privilegiando sempre il proprio percorso prescelto quindi verranno suddivisi in 180 ore sul percorso scelto sia il suo study coordinator, data manager oppure infermiere di ricerca ma tutti i partecipanti avranno anche la possibilità di partecipare avere uno stage per le rimanenti 20 ore nell'altro percorso così proprio da poter avere il polso di quelli che sono gli aspetti più operativi e gestionali della ricerca clinica e poi l'elaborato finale vi ricordo che questo master in realtà si avvale della collaborazione di molti partner in particolar modo l'Università degli Studi di Verona e diciamo quelli che sono i due poli clinici corrispondenti in ambito oncologico quindi l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS qui a Padova già citato dalla professoressa Guarneri e l'azienda ospedaliere universitaria di Verona ma partecipano anche una serie di esperti provenienti da altre università ve ne cito solo alcune presenti nelle precedenti edizioni come l'Università di Torino, Modena Reggio Emilia l'Istituto Mario Negri e anche le ORTC con questo vi ringrazio per l'attenzione se ci sono domande potremo ovviamente discuterle alla fine delle presentazioni e trovate nelle slide anche alcune informazioni utili relativamente al link dove trovare tutte le informazioni sul corso e la scadenza prescrizione dell'otto di ottobre nonché i contatti della segreteria organizzativa di Unismart ed eventuali contatti dell'ufficio post lauream se necessario con questo io passerei la parola alla professoressa Pasello che vi potrà illustrare diciamo in maniera più dettagliata i contenuti del master grazie Gaia eccoci ringraziamo la dottoressa Griguolo io come vi ho accennato nella sua presentazione come già vi ha anticipato la professoressa Guarneri vi entrerò un po' più nel merito di quelli che sono i moduli la suddivisione dei moduli e i contenuti facendovi anche qualche esempio di contenuto che vi sarà presentato come già anticipato i moduli sono otto in questi otto moduli vengono articolate 300 ore di lezione appunto online che si svolgeranno a partire da fine novembre fino poi al periodo primaverile estate in cui poi ci sarà tutta la parte del tirocinio e poi la stesura della tesina finale iniziando dal primo modulo il primo modulo è quello che riguarda l'oncologia generale chiaramente qui stiamo parlando di un master che vuole formare come è già stato detto due figure cardine nella ricerca clinica ma anche traslazionale in oncologia per fare questo e per arrivare al disegno dello studio agli aspetti anche etici e amministrativi prima bisogna avere un background della sostanza cioè dei contenuti di quello che poi andiamo a fare e di come effettivamente si trasla il contenuto di un progetto di ricerca poi in un successo diagnostico o terapeutico ancora di più in oncologia il modulo di oncologia generale consta di 36 ore e fondamentalmente vuole dare un quadro generale sull'epidemiologia quindi incidenza e mortalità delle principali neoplasie prima ancora di entrare quindi nella parte di oncologia speciale che è un modulo seguente qui viene fatto più un quadro generale focalizzato poi sulle big killer che riguardano appunto l'oncologia i meccanismi cancerogenetici le modalità di diffusione i fattori prognostici e c'è un importante core centrale cuore centrale di questo modulo che riguarda la terapia sistemica quindi i principi di terapia sistemica perché ad oggi l'oncologia in particolare le terapie farmacologiche in oncologia hanno subito notevoli innovazioni oggi non abbiamo più solo la chemioterapia ma abbiamo almeno quattro macro categorie di farmaci e quindi oltre alla chemioterapia l'immunoterapia la terapia target molecolare l'ormonoterapia che verranno trattati dal punto di vista dei meccanismi d'azione del profilo di tossicità e anche delle principali patologie in cui vengono utilizzati in diversi setting ci sarà poi una parte una breve parte che verrà poi successivamente approfondita ma già in quella dell'oncologia generale che riguarda lo sviluppo proprio dei farmaci in oncologia così come i criteri della valutazione della risposta dal punto di vista della risposta radiologica ma non soltanto questi sono alcuni esempi dei contenuti presi direttamente dalle lezioni degli anni precedenti come vedrete questo riguarda un po' quello che vi sarà fatto vedere con dei dati aggiornati rispetto agli ultimi dati epidemiologici sull'incidenza delle principali neoplasie i meccanismi cancerogenetici quindi entrando anche un po' in quello che sono le basi biologiche patogeniche che ritroveranno poi una rilevanza particolare quando si parlerà di ricerca traslazionale cioè di quella ricerca che va dal laboratorio poi al letto del paziente i principi di terapia che saranno strettamente connessi ai diversi stadi in cui la patologia oncologica si può presentare agli occhi del clinico nel momento della diagnosi il secondo modulo quindi prima tra il modulo di oncologia generale e il modulo di oncologia speciale c'è un corposo vedete sono 52 ore di modulo sulla metodologia della ricerca questo chiaramente parlando di sperimentazione clinica in oncologia è un modulo fondamentale che darà degli elementi di statistica ma anche proprio di metodologia clinica di disegno, analisi interpretazione dei risultati degli studi di diversi tipologie di studio dagli studi di fase più avanzata quindi di fase 2 e di fase 3 ma con un dettaglio anche sugli studi di fase 1 che sono quegli studi in cui valutiamo la prima introduzione se vogliamo nel paziente di una determinata strategia farmacologica e che hanno la necessità quindi di avere dei disegni particolari proprio per trovare la dose ideale del farmaco questi sono degli altri esempi e naturalmente oltre diciamo al disegni più classici di studi clinici si andrà proprio a valutare come la metodologia della ricerca nel corso degli anni si è evoluta proprio per la rapida introduzione di nuovi farmaci in pratica clinica e quindi non soltanto si ha sempre di più un'impronta traslazionale anche negli studi clinici interventistici vi è sempre una stratificazione o quasi sempre una stratificazione rispetto a dei biomarcatori predittivi e questa è una cosa fondamentale ma anche gli studi real world che valutano in realtà l'impatto nella reale pratica clinica dopo l'introduzione in pratica di un determinato farmaco 55 ore invece sono le ore che costituiscono il modulo di oncologia speciale e vedete che qui quindi si va a coniugare quello che si è appreso nel primo modulo dove abbiamo parlato di epidemiologia e trattamento e cancerogenesi diffusione in stadiazione qui lo andiamo a fare coniugato a molteplici neoplasie anche qui trattiamo le più comuni neoplasie come il tumore della mammella i tumori del polmone i tumori del colon retto i durologici ma andiamo ad affrontare tutte le diverse neoplasie quindi ci saranno anche dei dettagli clinici e di ricerca riguardanti le neoplasie meno frequenti questa è una grossa opportunità un elemento di elevata specializzazione che noi vogliamo fornire con questo contenuto perché vedete che sono rappresentati anche dei tumori rari come i tumori dei tessuti molli piuttosto che appunto i tumori i tumori cerebrali parleremo quindi di algoritmo terapeutico cosa vuol dire andare a coniugare in oncologia speciale quello che abbiamo appreso nell'oncologia generale andare a vedere come le diverse strategie terapeutiche non solo farmacologiche ma anche chirurgiche e radioterapiche si vanno a diciamo proprio articolare a seconda delle caratteristiche istologiche molecolari e di stadiazione quindi l'estensione delle diverse neoplasie qui sono rappresentate due esempi che riguardano la neoplasia polmonare e le neoplasie ginecologiche i tumori ovarici successivamente si passa a una serie di moduli che sono più diciamo dedicati proprio agli aspetti gestionali dei protocolli di ricerca quindi c'è un modulo di 16 ore che vuole affrontare proprio l'etica della ricerca in particolar modo il ruolo del comitato etico quali sono anche le responsabilità delle figure che questo master vuole andare a formare come ad esempio gli study coordinator e anche soprattutto le nuove modalità di accesso al farmaco laddove non abbiamo studi clinici o farmaci standard ci sono delle modalità di accesso al farmaco che vanno oltre e che richiedono un ruolo del comitato etico anche qui c'è un contenuto che concerne proprio questo aspetto successivamente ci sarà un modulo di 23 ore molto importante sulla normativa in questo caso si parlerà in particolare di quello che già la dottoressa Griguolo vi ha accennato cioè che cosa significa dove si applica nella conduzione di uno studio clinico le norme della buona pratica clinica verranno analizzati anche gli step che uno studio clinico deve attraversare prima poi della sua attivazione al reclutamento dei pazienti dal punto di vista proprio etico ma anche amministrativo il ruolo dei data manager verrà affrontato attraverso alcuni aspetti teorici e pratici sul data management e vi sarà un modulo sulla formazione della e la costituzione in RedCap che è una piattaforma una forse delle più comuni che si utilizzano negli studi investigators driven ma non solo per la raccolta proprio dei dati perché prima di gestire un dato clinico traslazionale patologico questo dato deve essere raccolto e non viene raccolto diciamo su un foglio Excel banalmente ma viene raccolto in quelle che vengono chiamate electronic case form report che appunto possono essere costituiti all'interno di diverse piattaforme elettroniche in particolar modo nel nostro centro ma non solo nel nostro centro anche nel nostro ateneo viene gestita attraverso questa piattaforma RedCap di cui vi sarà ecco qui ci sono degli esempi su quelli che sono le varie CRF vi saranno fatti anche degli esempi di altre modalità di CRF con un focus appunto su RedCap abbiamo poi un aspetto operativo gestionale abbastanza corposo che riguarda la gestione diciamo la parte più pratica di gestione e conduzione di uno studio clinico con parte pratica vi faccio solo qualche esempio la gestione molto complessa e non banale in oncologia dei campioni biologici del paziente dal campione tessutale al campione ematico al campione urinario perché gli studi vi ho detto prima che molti degli studi oggi possono essere banalmente studi traslazionali quindi che mirano a valutare il ruolo di un biomarcatore ma possono essere anche studi clinici interventistici per la volontà di introdurre un nuovo farmaco ma in cui la stratificazione dei pazienti all'ingresso dello studio è data da biomarcatori ricercati su diverso materiale biologico chiaramente se questi studi sono multicentrici il campione biologico va gestito dal centro coordinatore e dai centri periferici e c'è una normativa molto delicata e molto specifica in merito a questo altri esempi riguardano ci sono degli esempi altri esempi riguardano proprio e ci sarà una corposa parte fatta condotta presentata dall'EORTC che è appunto un'organizzazione europea per la ricerca sul cancro che vi farà vedere proprio come vengono formate non soltanto ancora una volta le CRF ma tutto il percorso del paziente nello studio clinico tutto il percorso di uno studio clinico dalla scrittura dal disegno alla presentazione agli enti regolatori e poi alla conduzione anche con una visione più europea multicentrica quindi più ampia scusate infine c'è la conduzione in qualità quindi anche qui vengono ripresi alcuni concetti che erano già diciamo svolti nei moduli precedenti ma con un'attenzione particolare su alcuni aspetti di controllo e controllo della qualità della documentazione dello studio clinico quindi nei faldoni cosiddetti che costituiscono uno studio clinico come devono essere tenuti i documenti quali sono gli aspetti su cui porre maggiore attenzione che potrebbero essere monitorati se il centro viene sottoposto a un audit ad esempio di un ente regolatorio o anche di uno sponsor di uno studio multicentrico ad esempio interventistico abbiamo anche dei dettagli sulla definizione del contratto della sperimentazione clinica che in particolar modo è più complesso quanto più gli studi sono chiaramente multicentrici ma soprattutto studi profit quindi sponsorizzati qui alcune scadenze che vi ho ricordato la scadenza della pre-iscrizione è l'8 ottobre questo è il link che poi è disponibile anche appunto nel sito la data della pubblicazione della graduatoria è il 17 ottobre la chiusura dell'iscrizione il 7 novembre con l'inizio delle lezioni fissate il 28 novembre la modalità è per lo più quasi interamente sincrona online su piattaforma zoom chiaramente la frequenza è obbligatoria e invece in presenza si terrà sarà obbligatorio l'articolazione del tirocinio che poi porterà alla stesura di una tesina anche qui alcuni numeri telefonici e email che però sono già stati ricordati nella presentazione precedente e intanto se volete raccogliere le varie domande io cederei la parola alla relazione successiva che riguarda appunto l'esperienza di colleghi che hanno partecipato all'edizione precedenti abbiamo scelto quest'anno proprio due rappresentanti di ciascuno dei due percorsi quindi uno study coordinator ormai esperto direi e una infermiera di ricerca anche lei esperta che hanno frequentato negli anni precedenti quindi io cederei la parola alla dottoressa Doria che è study coordinator che poi a sua volta la passerà alla infermiera Cavalletto Erika grazie buongiorno a tutti sono appunto Giulia Doria lavoro come study coordinator dal 2018 ho iniziato da prima in una piccola realtà un piccolo centro postagista poi nel 2019 sono stata assunta allo Iov presso l'unità di ricerca clinica gestita dal dottor De Salvo dove attualmente sono dipendente nella cosiddetta piramide della ricerca mi sono laureata all'Università di Sud di Padova prima in triennale in biologia molecolare e poi magistrale in biologia sanitaria durante l'internato di laurea però magistrale mi sono resa conto da subito che la ricerca di base non rispondeva alle mie aspettative e alle mie esigenze ero infatti costantemente impaziente proiettata verso gli step che erano successivi al laboratorio però a quel tempo non sapevo di poter entrare nell'ambito della ricerca clinica all'ignala dell'esistenza infatti di questa figura lavorativa che ricopro perché all'Università il tema dei trial clinici viene presentato esclusivamente dal punto di vista teorico e non viene fatto accenno non viene accennata l'opportunità anche per noi di entrare a far parte di questa realtà e sono quindi venuta a conoscenza di questa figura lavorativa puramente per caso però da subito ho capito che rispondeva esattamente alle mie curiosità come è accaduto per molti noi stati con i lettori più anziani però io ho dovuto imparare il mio mestiere direttamente sul campo studiando da me oppure confrontandomi con il monitor che veniva nel centro o con i miei colleghi più anziani nel tempo ho maturato quindi sempre più l'esigenza di consolidare e arricchire le mie conoscenze in ambito della ricerca clinica e soprattutto in ambito dell'ecologia in quanto l'università l'avevo studiata solo dal punto di vista molecolare ritengo infatti soprattutto con l'aumentare sempre di più della complessità degli studi clinici che costruirsi questo bagaglio culturale sia essenziale sia fondamentale per comprendere appieno il proprio lavoro e quindi svolgere al meglio questa attività infatti richiede un continuo studio e un continuo aggiornamento al momento non sono disponibili molti master se non appunto questo che io ho frequentato nell'anno accademico 2021-2022 e del quale io sono venuta conoscenza dalle mie colleghe sia infermiere che radicoli che l'avevano frequentato negli anni precedenti che me lo consigliavano questo master come anticipato propone 300 ore di lezione che ora sono erogata a distanza e quindi ancora più facilmente adattabili alle esigenze ad esempio dei lavoratori e che comprendono i moduli di oncologia generale speciale che mi hanno unito le basi di cui appunto avevo necessità nel mio lavoro quotidiano ho avuto poi la possibilità di approfondire gli aspetti etico e legislativi va ricordato che recentemente quegli legislativi sono stati aggiornati con gli etici prossimamente con le nuove GCP verranno aggiornati e sono fondamentali ovviamente per la corretta conduzione degli studi clinici ho potuto poi confrontarmi con antiprofessionisti del settore ed esperti che svolgono la mia stessa attività magari con maggiore esperienza e che si sono trovati ad affrontare problemi analoghi quindi abbiamo potuto confrontarci nella gestione delle risoluzioni di questi poi tutto il materiale delle lezioni viene messo in condivisione con gli studenti e quindi anche in caso di necessità il futuro rimane consultabile e questo ovviamente è un grande vantaggio perché nel web non sempre si trova del materiale affidabile e quindi perché si tratta di un ambito molto settoriale poi oltre come sempre accennato tra parte teorica il master offre anche un tirocino formativo di 200 ore una delle quali sarà possibile frequentare sia l'unità di ricerca clinica in cui la punto lavoro si affiancarli per me di ricerca le ore di frequenza sono suddivise tra i due ambiti e in particolare si potrà dedicare 180 sulle 200 di queste al percorso che è più in linea col profilo del singolo tirocinante ma anche con le sue preferenze ad esempio quest'anno un infermiera ha preferito dedicare la maggior parte delle sue ore di pratica nell'affiancamento di un stadio di coordinator nelle restanti 20 ore si può comunque seguire anche l'altro percorso durante le ore in pratica si potrà prendere come legge e interpretare un protocollo l'importanza di attenersi a questo all'esopo del nostro centro come potrà essere di supporto ai clinici nell'organizzazione delle attività previste nello studio come interfacciarsi con le cro sarà poi possibile assistere alle condizioni SIV monitoraggi COV e seguire il flusso del paziente all'interno della sperimentazione non solo durante queste ore si potrà affiancare sempre all'interno della unità di ricerca clinica nel cui facciamo parte anche il personale del nucleo della ricerca clinica ma anche del CTQT che incantra i nostri project manager i nostri monitor e si potrà conseguire l'interno di condizioni in uno studio in toto quindi ancora prima della sua attivazione come accennato la IOV poi è anche un centro autocertificato come accennato di fase 1 e quindi vi ha anche la possibilità di seguire il percorso dei pazienti e la condizione dei studi clinici di fase 1 che sono condotti sono in strutture altamente specializzate che sono in possesso di specifici requisiti e abbiano un personale appositamente qualificato e dedicato durante quindi le ore di tirocinio all'interno della IOV si è inserito in un contesto che è ampiamente organizzato e strutturato per la condizione di trial clinici ed è quindi possibile affiancare figure competenti che hanno molta esperienza in questo settore e questo è un grande vantaggio sia per chi si affaccia per la prima volta nel mondo della ricerca clinica che vuole entrare a far parte ma anche per chi già ne fa parte e vuole magari ampliare le proprie conoscenze ma anche confrontarsi con una realtà diversa dalla propria quella nostra per quanto mi riguarda finito grazie Giulia prendo parola io al volo buongiorno a tutti io sono Erika Cavalletto sono un'infermiere di ricerca e lavoro allo IOV dal 2021 mi sono laureata nel 2020 e dopo pochi mesi sono approdata subito allo IOV ma di ricerca in realtà sapevo poco o nulla perché non è un tema che viene affrontato durante la formazione triennale degli infermieri viene presentato in maniera molto teorica e in poche parole ma di pratico non c'è assolutamente nessuna esperienza che preveda la frequenza in un reparto di ricerca clinica quindi io sapevo che quando sono arrivata allo IOV avrei dovuto imparare tutto dalle mie colleghe quando mi si è presentata l'occasione di fare il master l'ho subito colta al volo perché mi sentivo molto carente per quanto riguarda tutta la teoria che sta dietro le sperimentazioni cliniche molte delle mie colleghe avevano frequentato il master negli anni precedenti e mi hanno un po' convinta a dire ok lo faccio per approfondire tutto quello che mi serve per poter poi condurre in autonomia il mio lavoro in ricerca clinica cosa dirvi che non hanno già detto i precedenti relatori questo master secondo me è strutturato molto bene sia per chi già arriva con un po' di esperienza nella ricerca clinica sia per chi parte completamente da zero come è stato nel mio caso perché appunto ha una teoria una base di teoria molto ampia molto completa come vi diceva prima la dottoressa Dora come aveva detto la dottoressa Pasello si parla di oncologia si parla di metodologia di ricerca etica legislazione ma anche di aspetti pratici particolarmente interessante è stato per me ad esempio potermi confrontare poi con i docenti che sono tutti docenti che lavorano attivamente nella ricerca clinica e che quindi hanno esperienza diretta con la realtà che è la ricerca clinica cosa dirvi dell'esperienza di tirocinio per quanto riguarda il percorso per infermieri di ricerca sono appunto 200 ore di cui 180 nella nostra unità operativa in queste 180 ore noi cerchiamo di farvi vedere tutto il percorso del paziente inserito in un trial clinico dalla presa in carico quando viene proposto lo studio al paziente a come vengono organizzate tutte le procedure che il paziente deve fare durante il suo percorso con noi che sono i prelievi ma sono anche la rilevazione dei parametri vitali tutti gli esami strumentali interdiologia con l'oculistica con la fisiopatologia respiratoria la raccolta dei questionari sulla qualità di vita che è sempre più importante all'interno dei trial clinici e non per ultima per importanza diciamo la somministrazione delle terapie sperimentali cosa altro dirvi sicuramente durante il nostro tirocinio potremo offrirvi una piccola esperienza per farvi capire com'è poi la realtà anche lavorativa all'interno di un'equip che si occupa di ricerca clinica importantissimo per me è stato anche il breve tirocinio con gli study coordinator perché mi sono resa conto di cosa c'è oltre al lavoro che faccio io tutti i dati che noi produciamo che fine fanno cosa fanno l'autore studiore vi ha raccontato quello che c'è dall'altra parte quindi sì sicuramente è utile anche a chi magari già lavora in ricerca clinica per avere una visione più ampia su tutto il percorso molto altro da dirvi non c'è nel senso che hanno già detto abbondantemente i relatori precedenti però se ci sono domande sono a disposizione riprenderei un attimo la parola io ringrazio tutte le professoresse e le dottoresse che sono intervenute e riprenderei una domanda che è stata fatta in chat ve la leggo il master è rivolto solo agli infermieri oppure anche altre figure nell'ambito della sanità tipo farmacisti ma se posso rispondere io allora gli altri sicuramente aperto anche ad altre figure l'importante è che sia chiaro che la figura che si vuole andare a formare è questa quindi chiaramente vedrei più un percorso fattibile di study coordinator per una persona formata in farmacia quindi sicuramente anche gli anni precedenti abbiamo avuto queste figure anche biologi piuttosto che farmacisti ma anche altre figure però appunto è chiaro che qualora non si sia già formati per una professione sanitaria tipo infermiere l'altro percorso è quello che andrà in qualche modo seguito grazie mille professoressa è stata fatta anche una domanda a me privatamente che invece riguarda in che cosa consiste la verifica finale del master allora la verifica finale sarà semplicemente la presentazione della propria tesina quindi magari do due informazioni in più su questo perché l'anno scorso dopo la presentazione iniziale sono arrivate un monte di domande in corso con il tutor che si identificherà durante il tirocinio noi abbiamo due tutor allo Iov che sono la responsabile delle infermiere di ricerca la dottoressa Grosso per quanto riguarda il percorso infermieristico e il dottor De Salvo per quanto riguarda diciamo il filone di study coordinator e chiaramente questo apro una parentesi qualora i colleghi o i partecipanti al master lavorino o svolgano già un'attività professionale in una struttura sanitaria o in un ateneo che è in qualche modo convenzionato con l'università di Padova è possibile svolgere il tirocinio anche nella propria sede così come l'identificazione di un tutor locale della propria sede con cui sede con cui condividere la tematica della tesina e sulla tematica della tesina di fine master è un qualcosa di attinente alla propria figura c'è chi tra gli study coordinator ha presentato un progetto di ricerca ad esempio che gli era particolarmente interessato durante lo svolgimento del tirocinio così come tra le infermiere di ricerca ad esempio c'è stato qualcuno che si è focalizzato su degli aspetti che poteva essere l'attivazione di un team di infermieri di ricerca in un centro con degli studi clinici piuttosto con il ruolo dell'infermiera di ricerca in un determinato protocollo quindi questo poi è abbastanza a voi se avete dei dubbi siamo qui insomma per rispondervi però ci sarà poi una presentazione finale che solitamente si svolge nel mese di quando si svolge Cristiano mi suggerisci la tesina finale la discussione della tesina finale ok verso l'autunno e si presenta la propria tesi grazie mille professoressa è stata chiarissima lascio se c'è qualche domanda che magari qualcuno vuole accendere il microfono e porla direttamente a le relatrici le professoresse le dottoresse collegate altrimenti andrei in chiusura ok è arrivata una domanda sempre in chat buongiorno io vorrei chiedere se le lezioni di giovedì e venerdì impegnano tutto il giorno in generale e allora il piano didattico il piano orario lo stiamo facendo cominciamo in questi giorni a ridistribuire in generale cerchiamo di compattare abbastanza in quelle giornate più lezioni possibili non è sempre occupata tutta la giornata ci sono stati dei giovedì venerdì dove era occupata sia mattina che pomeriggio però altre giornate in cui ad esempio c'era solo la mattina quindi non è dipende un po' anche dalle disponibilità dei docenti il piano orario vi sarà dato in questi quando l'abbiamo concluso quindi prima dell'attivazione comunque all'inizio partirete che avete già più o meno tutti gli orari quantomeno dei primi tre moduli di sicuro ecco un altro messaggio buon pomeriggio il master è aperto ai fisioterapisti specializzati in oncologia grazie fisioterapisti specializzati in oncologia ma dobbiamo vedere se tra i titoli e tra quelli inclusi vedo un po' difficile onestamente l'applicazione poi di questo master cioè chiaramente per la figura proprio per la formazione che hanno queste figure la vedo un pochino difficile ecco perché si occupano di determinati aspetti che esulano un po' specificatamente dall'aspetto della ricerca clinica in oncologia io nel mentre penso di averla anticipata ho riportato nei link utili anche a rimando agli avvisi di selezione quindi dove possono in autonomia le persone consultare i titoli che sono richiesti per l'accesso al master la ringrazio anche in questo caso per la risposta penso che possiamo chiudere andare in chiusura e ringrazio nuovamente tutti per la vostra partecipazione ricordo che le pre-iscrizioni come l'hanno già ricordato le professoresse e le dottoresse scadono al giorno 8 ottobre 20-24 alle ore 12-30 ricordo inoltre che è necessario effettuare la pre-iscrizione per finalizzare l'iscrizione del percorso formativo nel caso in cui vi possa essere utile ho riportato nella chat zoom il link al sito del master su piattaforma UEL dove potete trovare tutti i dettagli e scaricare la brochure il link per procedere alla pre-iscrizione e anche l'indirizzo mail al quale potete riferirvi per specifiche ulteriori ovvero la mail in e-smart come anticipato all'inizio Open Day la registrazione con le slide illustrate saranno messe a disposizione sul sito del master sempre in piattaforma UEL on IPD nei prossimi giorni ringrazio nuovamente le relatrici e voi tutte e tutti per la partecipazione auguro una buona serata grazie ancora grazie buona serata